Il rapporto quotidiano con il cibo è immortalato dai fotoamatori. Sono i 150 scatti in mostra fino a sabato 16 maggio nella suggestiva cornice del castello Normano Svevo Aragonese di Monte Sant'Angelo. L'esposizione fotografica ha dato il via alla seconda edizione della Settimana della Cultura e dell'UNESCO, l'evento di promozione e valorizzazione della festa di San Michele Arcangelo dell'8 maggio. La mostra fotografica dal titolo Immagini del gusto, percorsi contemporanei sul cibo è stata organizzata dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche in collaborazione con la Proloco del Comune Garganico. I temi trattati sono i più vari, la produzione, i luoghi, gli spazi del commercio e la comunicazione del cibo. Non a caso sono state scelte per la mostra fotografica le tematiche al centro dell'Expo di Milano, nutrimento e lotta agli sprechi alimentari. Oggi è una mostra fotografica, la fotografia è una delle branche dell'arte contemporanea, riteniamo che d'ora in poi questo contenitore deve svolgere un ruolo all'interno del sistema delle arti contemporanee pugliesi. Fino a domenica prossima sono in programma numerosi appuntamenti nell'ambito della Settimana della Cultura e dell'UNESCO. Una serie di incontri, di convegni, di confronti su temi importanti, ripeto, il leitmotiv è il cibo, quindi la città del bio, l'app Gargano, parleremo di tante cose, ma anche concerti musicali, jazz, musica sacra all'interno dello santuario, quindi tante belle cose, io invito tutti a venire a Monte Sant'Angelo.